Parte da Pineto la riscossa del centro-sinistra contro l'arroganza e l'incapacità del centro-destra e dei suoi amministratori locali. In provincia di Teramo tutti i sudditi del senatore Tancredi attacca il sindaco Luciano Monticelli in una infuocata conferenza stampa dove ha chiesto ai segretari provinciali dei partiti di centro-sinistra di ricompattarsi perché con questo centro-destra, dice, anche a livello locale, non è possibile dialogo. Servi del loro padrone e del colore della maglia, fino al punto di sacrificare il lavoro altrui e il bene dei cittadini. L'episodio che ha fatto traboccare il vaso sabato alla firma del protocollo per il comitato promotore per il sito UNESCO Cerrano Atri. Un lavoro lungo e certosino del presidente del consiglio comunale di Pineto, Iezzi. Tutto era pronto, ma poi il puntiglio e il campanilismo del sindaco di Atri, di centro-destra, ha fatto saltare tutto. Eppure tutti sapevano cosa erano lì a fare. Monticelli mostra le lettere di provincia di Teramo, comune di Silvi, regione Abruzzo. Eppure, pur di non andare contro all'amico di Atri, hanno sbeffeggiato di fatto l'impegno del comune di Pineto. È l'ultimo di un lungo elenco di sopprusi e arroganza del centro-destra. Monticelli ricorda il parco marino Torre del Cerrano, voluto dalla sua amministrazione che ha coinvolto positivamente Silvi. Il centro-destra, che ne aveva diritto, nomina presidente del CDA Benigno Dorazio, storico nemico di quello che definiva un carrozzone, quasi a denigrare l'impegno dei promotori dell'area marina protetta. Monticelli attacca anche Chiodi. Lo abbiamo invitato tante volte per iniziative assolutamente lodevoli. Lui non è mai venuto, però non ha mai mancato gli inviti e gli appuntamenti elettorali dei candidati del centro-destra a Pineto. Chiodi, anche se del centro-destra, è anche il mio di presidente, lamenta Monticelli, che conclude invitando tutte le amministrazioni di centro-sinistra a dire basta a questa arroganza, presunzione, a prendere le distanze dalle amministrazioni di centro-destra che sanno chiedere aiuto, sanno prendere, ma non hanno alcuna intenzione di collaborare quando progetti, idee assolutamente valide per i cittadini e le comunità amministrate non sono farina del loro misero sacco e dei loro padroni.